Il Governo nazionale non dimenticherà la Basilicata, ne sono certi senatori del PDL, Latronico e Taddei, di persona insieme al sottosegretario viceconte nel metapuntino per verificare lo stato d'emergenza e predisporre una relazione al presidente Berlusconi. Il senatore del PD, Bubico, a nome anche di Antezza e Chiurazzi, in Senato ha posto l'accento sulla gravità della situazione, chiedendo al Governo di assicurare la stessa premura mostrata per altri territori colpiti da analoghe calamità. Parallelamente alla Camera, i deputati PD, Margiotto e Luongo hanno allungato l'eco di allarme dei consiglieri regionali intervenuti a più riprese. PD, PDL e Udc hanno chiesto al presidente De Filippo di attivare un tavolo interdipartimentale. Sollecitazione bipartisan anche al presidente Folino, a cui è stato chiesto di convocare un consiglio straordinario. Tra i primi ad invocare lo stato di calamità, il consigliere PD, Santo Chirico, e i consiglieri PDL, Venezia e Castelluccio, misure urgenti da Regioni e Governo nazionale per sistema aviario, patrimonio edilizio e abitativo, compreso quello di valore culturale monumentale, aziende industriali, artigianali ed agricole. Dal consigliere Venezia la preoccupazione espressa in un'interrogazione a De Filippo sull'eventualità che i nubi fragi possano avere ripercussioni sul centro di Trisaia e il parco dei Calanchi. Qualunque soluzione non potrà mai essere risolutiva, perché servono interventi strutturali, ha detto il consigliere del PD, D'Alessandro, che ha giudicato positivo il fronte comune tra senatori, regione, provincia e comune. Per Braia, sempre del PD, è giunto il momento di convocare una task force ambientale, con il coinvolgimento del Governo nazionale, al fine di definire strategie ed investimenti per la Basilicata. Per Napoli del PD è pesantissime le responsabilità delle amministrazioni regionali e provinciali e ha ricordato come il parziale cedimento di un viadotto della Basentana all'altezza di Tricarico abbia indotto il sindaco Santarsiero, presidente del Lancia, a confessare le condizioni dell'arteria sono da terzo mondo e ne ha addossato le responsabilità al Ministero delle Infrastrutture e all'ANAS.